questa in mezzo al marciapiede e come potete vedere ci sono altre macchine sul marciapiede e questa ormai sembra la normalità a Milano ma in una città normale non lo è non lo è macchina su marcia qui guardate il quantitativo di macchine è a perdita d'occhio ecco in questa via si fa addirittura fatica a passare perché qui ne abbiamo una qui ne abbiamo un'altra qui è ancora un'altra qui è ancora un'altra c'è anche una moto ed è da vedere anche come le stazioni di servizio diventano dei posteggi certe volte perché lo spazio è quello che è che è un'altra Le mitiche auto sparti traffico.